ciao ragazzi volevo mostrarvi quello che ho ricevuto questo natale guardate che bellissima sportina con su scritto john masters organics super natural beauty una bellissima scatola per un regalo altrettanto grande quanto la scatola ora lo apriremo assieme si sta sfracellando il pacchetto dicono che porti bene quindi guardate che carino che è è tipo quelle palle che si buttano dentro tra la vasca e poi fanno un sacco di scuva ha un profumo veramente buono in più ci sono disegnate oddio guardate dentro che cosa tipo della e sembra un sembra sembrano tipo delle rose quindi dentro probabilmente sono anche delle cose guardate che bello è proprio anche bella la scatolina e i regali mi piacciono ma in realtà relativamente perché il più delle volte la gente mi regala cose che non uso o che lì per lì mi piacciono e poi le guardo dico vabbè carine però non me ne faccio niente bene e ora devo dire che purtroppo i miei regali si sono esauriti voi cosa avete ricevuto di bello natale ovviamente i regali più belli sono quelli che vengono dal cuore e quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri di natale e auguro un buon natale anche se è già passato a tutte le persone a cui non ho scritto buon natale ve lo auguro lo stesso dal profondo del mio cuore quindi è un regalo ancora più bello di quelli materiali e ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao